lesbiche bomba,bomba porco,bomba porco ahahahahahahahahahahahahahaja stai cazzate la tua pozza cagliato non scrive tu che palle tuto hot bennett qui solita noia,quanti anni hai? eh si mi annoio anche io Ma nessuno mi risponde qui Bobba porca madre 18 tu E io tra te Oddio Bella sta conversazione Sempre 21 E io sempre 18 Ciao anni ciao 18 tu 21 tu 18 tu Sempre 18 E io sempre 18 Oppure Intendevi i cm Aspetta che mi ha scritto Ehi Schimbo order Ehi I centimetri sono 17 I miei sempre 18 E i miei sempre 18 Ah bene Ah no non era quello No Ah bene Che tipo di divertimento Quello che hai capito Pure io Che fai per rompere la noia Io mi mangio un soffigino Tu non hai fame Anni Bobba 18 tu Bobba 21 No Bob Ho scritto cazzo Ciao posso parlarti No No Bobbone Mega Bobbone Lo stavo a delirà ormai Cioè Io vorrei fare web cam Se ti va Oddio Vabbè Vabbè Avete letto Insomma Vai subito Al sodo Eh Basta Chiudi con la chat Questa l'amo blastando Mega Bobbone Mega Bobbona Mega Bobbona Ti lo metto nel Ciao Si è svegliato ragazzo Rosso di che vedi Poi Eh vabbè Rinomato Dispiace a tutte le ragazze rosse Che trovo No Io ho tanto bene Ragazze rosse Io pure Trovo perché sono No Sì Ha detto poco Ha detto poco Cosa Mi fa No no Perizzo Facciamo la chiamata Hot Tipo Non direi more Rasata Non del tutto Non del tutto Vedo Non vedo Occhio Non vede Quale non vuole Ah Scusa La censura Limone Che bobba Limone A me Non dispiace Questa voce Balla Non è questo Si Vabbè Sono seduto dalla scrivania Ora E tu Pure Anche io Mega Bobbona La risposta Non è molto Bobb Bobbone Mega Bobbona Si è chiusa la chiamata Bobbone Salendo Sulla coscia Fino ai tuoi slip Eccolo Caglio bagnino 2 La vendetta E' arrivato Agli slip Ta 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 Ti spaderei anche i buchi Delle Mamma mia quanto è greve Regà Ma che cazzo Sei un trapano eh Sei un trapano eh Da qui nasce il detto Vecchio trapano Si Diciamo che mi piace sfondare Addirittura Eh si è bene Che maschion Ehi chico Vedi piaccio Che maschion Ti accarezzo da sopra Prima che non le dite Poi ci passano le inganzi E finalmente Ti trovi sto cazzo Dei tu metri Finalmente No Ti prego di io Che sei il transe Bobboooo La plana Ti ha cancellato da amici Se ne sei sfucitato Ci sono andato ficcato Ma che cosa fa senso Nel senso Sei tu quella Che prende l'iniziativa Oppure Lo fai prendere a quell'altro All'altro Noi siamo una ragazza Che prende l'iniziativa O no? Parti dal presupposto Non lo so Perché non siamo ragazze Però boh Mi piace Prendere L'iniziativa Allora Ci infilo tutta la lingua dentro La muovo su e giù Veloce poi dentro Mi aiuto con le dita Stimolo Cioè questo regà Questo è Caio Bannino Veramente Travestito da Un altro avatar Tanto una marca di sigarette C'è una Piena Ciao buona siga A me piace molto Quando sono le donne A saltare sull'uccello Ma che cazzo Eh papà Che è per questo uomo Dobbiamo beccarlo De Roma Porco Dio Che bella Pisa Ci vado Ogni Estate In vacanza Ma che cazzo è che fa in vacanza Ognuno è stata a Pisa Dai miei Ci Ho altre Come si dice Ho altre cose tra le mani No altre priorità Priorità in questo momento Non so se mi sono spiegata Non lasciarmi a metà Please Non ce la faccio più In questo momento In questo momento Pisa Due torri pendenti Un genio Sei troppo Un genio ma genio Sei troppo simpatico Una torre Mi piacerebbe Visitarla Perché l'altro L'ho già visitata E non è Quella Vicino Al battistero Agni anni Rearte Di questa cosa Sei ricordato Dopo 5 anni Per il gioco C'è il battistero vicino No raga Questa piccola Ci sono due torri Che omogrepe Cioè questa qui Ti sparerai Dovunque Pure in bocca Ma poi la gente Ma non lo capisce Che davvero Un po' è severo Cioè che la donna Non farebbe mai Una cosa del genere Cioè magari Hai capito Io faccio tutti i giorni Su hub Ci sei O sei A svuotare La torre Quando mi viene appisa Te la faccio vedere Così tanto Che ti stancherai Perché io Sono fatta Così Esagero Questo Ma Guardate Sai sono Un treno Per Roma Tranquilla Zia Ci penso io Adesso ti porto Una bella Uahola E poi Ci penso io Ci penso Perché le annibale Qua Si va a bordello Non rovinerò nulla Allora Parliamo Cioè Bobboneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneone Beh fammi vedere se riesce anche tu a stimolarmi un po'. No, mi rivedo di farlo Ti penso che mi rivedo proprio di farlo Non mi interessa Scendo No Scendo 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 È super continue Fabbordo Compra il pane Scendo mazza questo crattageno allora ragazzi finiamola qui perché sennò questo qui potremmo andare avanti finché la torre di misa non cade sì esatto o in serie a drizza probabilmente qua finché in serie a drizza se continua così basta va bene ragazzi se mi è piaciuto questo video lasciamo più di 5.000 like quindi se arriviamo a 5.000 va bene al minimo almeno 5.000 e 1 se sono 6.000 è meglio se sono 7.000 è meglio se sono 8.000 è 5.000 diciamo così esatto e niente noi ci becchiamo come sempre al prossimo video di Apple se vi è piaciuto commentate qui sotto e diteci se vi stanno piacendo le avventure di Ramona grazie tutto come andrà a finire con skin border skin border poi faremo tipo la classifica skin border caio bagnino caio bagnino aspetta ma ho risposto questo e poi marus x e poi boba 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 detto questo niente noi ci becchiamo al prossimo video grazie a tutto bella ciao grazie a tutti ciao ciao ciao